Che squadra è questa Atalanta? Signori, io oggi voglio fare un chapeau, come direbbe Cassano, all'Atalanta per la partita straordinaria che hanno giocato in casa del Napoli. Vorrei dire al mio Milan di prendere esempio, perché io ho sentito molti tifosi del Milan, faccio una piccolissima dichiarazione sul Milan, poi parliamo immediatamente di chi merita, cioè la Dea in questa giornata, in quest'ora di pranzo, di questa domenica che ha fatto una partita straordinaria. Ma appunto faccio un passo indietro sul Milan dicendo, ho sentito tanti milanisti dire eh vabbè dai, però il Milan col Napoli ha giocato una buona partita contro questo Napoli, volevi mica fare di più, alla fine sono primi, c'è Conte, eh meglio di così. Ragazzi, l'Atalanta ha dimostrato, ha zittito tutti quei milanisti che dicevano eh meglio di così non si poteva fare, perché il Napoli è una squadra forte, con una difesa solida, anche se poi presa nel modo giusto non è certo una difesa inscalfibile, l'abbiamo visto appunto nella partita di oggi, è una squadra che ha grande spirito, sa quando colpire tutto quanto, l'abbiamo visto nella partita col Milan, ma non è una squadra perfetta. Nella stessa partita col Milan c'erano stati diversi errori difensivi in uscita da dietro, c'erano stati vari momenti in cui la partita poteva anche riaprirsi. Non è una squadra perfetta, è una squadra ancora in costruzione, d'altronde Conte è da qualche mese che lavora e ha già fatto grandi progressi. Ma l'Atalanta ha dimostrato come appunto il Napoli non è sicuramente inarrestabile e come invece l'Atalanta stessa di Gasperini forse quest'anno sta davvero facendo quello step in più nella continuità, nella maturità per poter ambire, dico ora forse una parola grossa, ma secondo me anche allo scudetto. Ora so che magari qualcuno dirà ma stai esagerando, però Arezzi fermiamoci un attimo a pensare. Visto quest'Atalanta, che non è che dici l'abbiamo vista solo oggi, o che dici vabbè oggi l'Atalanta ha fatto una partita straordinaria, ha vinto 3-0 in casa della capolista, però è stato un caso, non è stata magari l'unica partita giocata così da parte dell'Atalanta. No, cioè l'Atalanta è ormai da più di un mese, un mese e mezzo, che la vediamo giocare bene, vincere, dominare le partite in Italia e in Europa, anche in Champions, anche grandi partite per dire quella di Champions che ha fatto con l'Arsenal, se non era un partitone, nonostante poi sia finita in pareggio. Partite vinte segnando 5-6 gol, adesso ha anche vittorie contro le Big in campionato. È una squadra che sì, ha avuto i suoi passi falsi, ha avuto le sue giornate negative. Faccio per dire, per esempio, quando ha perso 4-0 con l'Inter, lei giocava una partita dove l'Inter sostanzialmente dominò l'incontro e l'Atalanta non riuscì a combinare nulla. Per una squadra che veramente, nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, ha trovato una continuità pazzesca, anche grande solidità difensiva, perché poi prende anche pochissimo gol ultimamente l'Atalanta, è una produzione offensiva incredibile. Con l'Atalanta che ha un reparto offensivo davvero mostruoso. Voi pensate che oggi Reteghi è stato messo in panchina da Gasperini? Che io all'inizio partita pensavo fosse la classica gasperinata, no? Gasperini è quello che ogni tanto ha questa cosa che tiene fuori i suoi uomini migliori apparentemente senza una motivazione. Cioè oggi quando hai visto la formazione dell'Atalanta, ti dici, cavolo, giochi in casa con il Napoli, cioè giochi in casa nel Napoli, la capolista. Cioè il Reteghi è l'uomo più in forma, sta segnando, come se non ci fossero domani, il capo canoniere della Serie A e lo tieni fuori. Com'è possibile? È possibile che poi Lukman davanti ti gioca una partita straordinaria e ti segna due gol. Non solo, non pago il Reteghi, entra al 75esimo e segna pure lui. Quindi il Reteghi pure che è stato tenuto fuori, ha avuto un'occasione e ha segnato, peraltro un gol bellissimo al volo di desto che non era per nulla facile sull'assist di Bellanova. Io direi ragazzi, io ripeto, non vorrei esagerare, ma davvero se questa Atalanta non ricade nel suo nemico principale che è poi la mancanza di continuità, che tante volte ha impedito all'Atalanta di raggiungere grandi traguardi in questi anni, fatto salvo che poi hanno vinto l'Europa League, quindi diciamo che è una cosa che si riferisce più al campionato, perché nelle coppe magari serve un po' meno la continuità, nelle coppe basta anche la partitona, ma in cambiato per vincere serve la continuità. Io ragazzi non so se l'Atalanta continuare così, però se continua come sta facendo nell'ultimo periodo, è davvero una squadra che ha le carte in regola per poter vincere. Perché poi se ci fermiamo a pensare un secondo, le altre squadre, nessuna ha dato l'impressione di essere una squadra spacca campionato. Due anni fa fu il Napoli ad essere la squadra spacca campionato, cioè proprio dalle prime giornate levi in Napoli, giocavano da Dio, segnavano tanto e vincevano semplici, beh questi andranno a vincere il campionato in carrozza e così è stato. L'anno scorso fu l'Inter, la squadra spacca campionato, già dalle prime giornate vincevano sempre, segnavano tanti gol, non prendevano mai gol, capivi che era difficile per qualcuno contrastarli. Quest'anno qual è la squadra che spacca il campionato? Poteva sembrarlo il Napoli fino alla scorsa giornata, ma dopo la batosta di oggi forse bisogna un attimo ridimensionare la squadra di Conte, quantomeno nel breve periodo, poi magari troverà la quadratura dei Conti, ma ancora evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poteva essere l'Inter, la squadra che ha vinto l'ultimo campionato, ma l'Inter sta avendo alti e bassi finora, prende troppi gol, fa troppi svarioni difensivi, e quindi non sembra la squadra inarrestabile dello scorso anno. Potrebbe essere la Juve per il gran mercato che ha fatto, ma anche la Juve aveva gran solità difensiva, adesso prende tanti gol da quando si è fatto male Bremmer, davanti spesso fa fatica a segnare. Poteva essere il Milan, non ci ho mai creduto sul Milan, il Milan sta avendo mille problemi, una squadra che probabilmente farà fatica a entrare nelle prime quattro, secondo me, quindi figurarsi di lottare per lo scudetto. Qual è la squadra che può veramente... Cioè non c'è una squadra che dice, beh questa vincerà sicuramente. Per me l'Atalanta può essere nel numero di quelle che davvero può puntare al titolo. Ripeto, per vincere il campionato serve continuità, ed è quello che spesso è mancato all'Atalanta in questi anni. Però, ragazzi, ormai sono tante giornate che l'Atalanta sta giocando bene e vincendo, quindi chissà, chissà davvero. Io poi da un lato glielo auguro, perché chiaramente da un momento che il mio Milan già adesso è abbastanza fuori dai giochi, ma credo sarà completamente fuori dai giochi quando arriveremo intorno a gennaio-febbraio, se devo scegliere una tra le altre squadre che deve vincere il campionato, io lo auguro all'Atalanta che lo vinca. Perché ovviamente ho le mie antiche rivalità con Inter e Juventus, e sinceramente penso che una squadra come l'Atalanta, per quello che ha costruito negli ultimi anni, da squadra, tra virgolette, provinciale, comunque media, la media classifica di Serie A, a diventare praticamente una biga a tutti gli effetti, ogni anno lottare per andare in Champions, adesso addirittura lottare per il campionato, bisogna fare solo un applauso a quello che è riuscita a creare l'Atalanta come società, il modello virtuoso e tutto il resto. E oggi più che mai bisogna farlo dopo questa vittoria, è fantastica. Una partita che secondo me non ha avuto storia, cioè il Napoli è anche partito forte, ci ha anche provato, ma di fatto l'Atalanta l'unica volta in cui ha rischiato veramente è stato su quel palo di McTominay dopo il gol di Lukman, se vogliamo c'è stato un colpo di testa, se non ero di buongiorno nel secondo tempo che con una deviazione stava per ingannare Carnesecchi, ma poco altro. L'Atalanta oltre ad avere enorme qualità offensiva, oggi e in tante altre partite ha anche avuto grande solidità difensiva, perché ha rischiato veramente poco al cospetto di un Napoli che finora aveva fatto male praticamente tutte le squadre che aveva incontrato, forse ad eccezione appunto del Verona la prima giornata, ad eccezione della Juventus in quello scialbo 0-0 di un paio di mesi fa. Ma l'Atalanta veramente che oggi tra l'altro ogni volta che ripartiva aveva Lukman in stato di Grazia che ha segnato una doppietta, uno con un tiro al volo di sinistra dopo una sponda con una deviazione, è arrivata la palla lui, non si è lasciato pregare, l'ha messa nell'angolino, e poi il secondo gol dove il Napoli un po' sbilanciato in avanti si è fatto prendere in ripartenza, e De Ketelare che anche lui dall'anno scorso, da quando è arrivato alla servitù del Gasp è diventato tutto un altro giocatore, grande giocata di De Ketelare che poi libera lo spazio Lukman che lascia partire un tiro dal limite dell'area, perfetto nell'angolino, è Lukman che sappiamo, quando è in giornata l'anno scorso l'Europa League, la finale di Europa League l'ha vinta lui da solo praticamente, quindi quando è in giornata è inarrestabile. Tra l'altro, parentesi, bene anche per il mio fante, perché io ho schierato Lukman in cambio, quindi quei due gol mi hanno fatto molto comodo al di là di questo. Lukman che peraltro ha anche rischiato la triplette in un paio di occasioni, ma al di là di quello, ripeto, la reazione del Napoli si spegne nel palo di McTominay, subito dopo il gol del 1-0, che poteva magari cambiare la sorta della partita, ma per il resto a me il Napoli non mi ha mai dato l'impressione di poterla andare a pareggiare o quantomeno a riaprirla la partita, perché veramente l'Atalanta è stata fantastica, è stata autoritaria, ha saputo gestire benissimo i momenti della partita, c'è stato quel momento in cui ha lasciato più palla al Napoli, si è difesa con ordine e rischiando poco, quando doveva ripartire, ripartia, quando c'era il momento che doveva tenere la palla, gestirla, anche con tanta qualità lo faceva, anche un gol annullato con lo Sinac, per dire su un fuorigioco che c'era, però è un'Atalanta che non ha mai rinunciato ad attaccare, tant'è che poi nel finale trova anche il 3-0, come avevo detto prima con Retechi, che trova pure la sua gioia stagionale, la sua ennesima gioia stagionale in questa partita, dove ha giocato solo un quarto d'ora più recupero, ma è stato sufficiente per mettere a segno pure un altro gol nella sua straordinaria stagione. 3-0 è un'Atalanta che, ora non ho visto la classifica, ma dovrebbe veramente essere quasi appaiata a Napoli, che era in testa della classifica, riapre tutto di fatto per tutte le squadre, per l'Inter stessa che poi deve giocare col Velezzi, ma ora ha la grande occasione di rilanciarsi, per la Juve stessa che ha vinto, se vogliamo per il Milan, ma io ripeto il Milan sarà perché è la squadra che tifo, io non la vedo assolutamente a poter lottare con queste squadre, è davvero un campionato a parte tutto, che secondo me è bellissimo, perché è un campionato che non ha padroni, siamo a inizio di novembre, ancora un campionato che sembra non avere un padrone, dove davvero ci sono tante squadre, secondo me che possono andare al titolo, ma al momento, al momento, secondo me l'Atalanta è quella che può farlo con più autorità, con più consapevolezza, perché è una squadra con una rosa profondissima, è una squadra allenata da un grande allenatore, che può piacere o meno, anche a me dal punto di vista caratteriale, non piace Gasperini, però è un grande allenatore, e l'Atalanta ha sempre fatto grandi cose, e soprattutto può approfittare, secondo me l'Atalanta, del fatto che quest'anno non c'è la squadra spacca campionato, e l'Atalanta ha tutte le carte regole per inserirsi, in questa mancanza di dominio, per essere magari la vera sorpresa di questa stagione. Insomma, lo vedremo, il campionato è lunghissimo, ma sentivo di fare un video completo su questa partita, perché è stata veramente una grande partita da parte della Dea, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, di questa vittoria importantissima della squadra di Gasperini, vi invito anche a lasciare un like, un'iscrizione al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!